Ciao ragazzi, siamo giù al Ticino, io e la mia tavola X3, la 4 verrà più avanti, siamo giù al Ticino, l'acqua è bella calma come potete vedere, bella calma! E questo è il mio punto strategico perché l'acqua è veramente un piattume, ci troviamo al Ticino ragazzi, Ticino! Ci sono un po' di correnti sotto, quindi anche quando vado in modalità normale, se prendo sotto una corrente mi sballa l'ala e crea portanza sbagliata. Adesso la proviamo. Meno male che c'è questo muretto, vedete questo muretto dove io entro e poi mi butto e vado. Ci sono gli anatroccoli che andiamo a salutare. Ragazzi, adesso metterò un cruise per poter salire, se no la vediamo. Ok, un, due e andiamo! Bella fresca ragazzi, ottobre, 3 ottobre, si va con la tavola. Ok ragazzi, saliti siamo saliti. Ci sono un po' di rami come vedete, un po' di alghe, ma a noi non ci interessa. Adesso facciamo un giretto veloce per vedere com'è l'acqua, che bella fredda. Comunque ci sono un po' di regni, quando li prendiamo sentiamo. Oh no ragazzi, dai biglia! Allora, Demis, Flying Hop è qui con voi. Ecco i legni, legni, alghe. Un sacco di alghe. Qualche biscia. Biscia d'acqua. Mamma mia, che bella giornata oggi. Ragazzi, 2 ottobre, si va con la tavola. E vai con la prima girata, e vai con la seconda. E vai con la prima, vai con la seconda. Vai! Batteria 48 ampere, 48 volt, autocostruita. Dai ragazzi, non spendete un sacco di soldi per comprare le originali. E' molto facile, basta avere voglia, ma avere voglia è la soluzione. Cosa aspettate ragazzi? Woohoo! Vai su, giri e vai! Monto ala lift originale, 200, mono ala, è un pezzo unico. Wing davanti e stabilizzatore dietro, tutt'uno. Per ora mi trovo bene, l'A200, 200, must gong v2, piastra v2, esc, swordfish x 300 ampere, una bomba regolabile a pc. E adesso andiamo verso la diga ragazzi. Light forward, arriviamo! Vai! Quindi qua ci troviamo al Ticino, indietro si va verso Sesto, Sesto Arona, Angera, i posti di Taino. Però va bene anche qua, là ho rischiato molte volte di cadere, perché ci sono delle zone di secca. Invece qua, essendo il punto più alto, di questi problemi non ce n'è. Cigno! Eccolo lì, va che bello ragazzi, un bel cigno. Un bel cignetto. E di là ci sono tutti i miei spettatori, pescatori che gli diamo fastidio. Ah no, che c'è, frega, gli passiamo dietro. Vai Demis, sei uno di noi! Inquadriamo l'elica. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo! Vai Demis! Vai Demis! Inquadriamo l'elica.